Marco Cervoni è morto a causa dei numerosi colpi alla testa ricevuti, anche con un oggetto contundente. E' quanto emerge dall'autopsia effettuata sul corpo del 35enne, ucciso a Rancitelli, che ha evidenziato l'emorragia celebrale. Il colpo fatale sarebbe stato assestato con una stampella, considerata l'arma del delitto. Intanto è stato convalidato l'arresto per Guerino Spinelli, il 29enne pescarese accusato dell'omicidio, benché abbia dichiarato di aver solamente tentato di soccorrere la vittima. La coppia che ospitava Cervoni, nella casa dove è stato ucciso, si dissocia dall'accauduto e inchioda Spinelli. Perché non mi ha telefonato? Avrebbe chiesto il 29enne all'uomo di penne, entrando in casa come una furia, per poi aggredirlo e inseguirlo sul pianerottolo. Gli inquirenti fanno trapelare che probabilmente Cervoni fungeva da spacciatore per conto di Spinelli e che quindi alla base dell'omicidio potrebbe esserci un regolamento riguardo i proventi della vendita delle sostanze stupefacenti. Grazie per la visione!